Siamo qui con Giulia Romaglio, responsabile della città e della città di Napoli. Delle domande dell'UG, in un seguito, che cosa ne pensi dell'UG in questo festival? Come già ho avuto l'occasione di dire, prima è una realtà molto interessante e molto sponotante. Io sono venuta volentieri proprio perché, propriamente a quanto succede negli altri festival della scienza in tutta Italia, qui si parte dalla base, quindi dagli studenti, per cui è una cosa a cui tenevo particolarmente. Come si sono incontrate il festival della scienza, la città Cassano Scienza e la città della scienza? Diciamo, ci siamo incontrati nelle varie manifestazioni in cui è stato modo di conoscere sia molti versi, sia un po' la nostra scuola. Diciamo, è nata una collaborazione che è nata da poco, ma speriamo che duri parecchia. E un augurio che vuole fare altri studenti? Allora, per voi studenti vi auguro di continuare in questo modo e di prendere una carriera scientifica all'università, perché la scienza ha molto bisogno di tutto. Va bene, grazie per la risposta. Grazie.